25 novembre 2020 un anno dalla morte di diego armando maradona è passato l'anno passare già un anno ma questo signore qua non è mai finito è mai morto per noi per tutti lavorare tutti avanti esisterà sempre pure se è passato un anno purtroppo che non c'è più però la cosa bella che esisterà sempre non dobbiamo essere triste perché questo signore qua esisterà sempre il dio del calcio dell'universo non c'è forte mamma mia ma non nascerà più e questa si parlerà per 100 200 300 anni quando non ci saremo più noi nipoti esisterà sempre vedi un poco ieri oggi è il suo anniversario della sua morte ieri telegiornali parlavano che domani sarebbe oggi l'anniversario di maradona la morte di maradona un giorno prima vedi la grandezza di questo signore che sembra nei nostri uori e rimarrà sempre la cosa bella da caissima va che era diventato napoletano è napoletano è napoletano è napoletano era scritto anche sulla statua è napoletano cioè è una cosa faccia caso per esempio un ragazzo in argentina ma di cuballone bocayuno può venire a napoli e come fosse napoletano che è andato a trovare a fare una passeggiata in argentina e adesso ci ha difeso prima non italiano non napoletano ci ha difeso la nostra valore a parte che non l'ho già vissuto che ero piccolo a parte che lui mi dispiace per te mi ha fatto innamorare ma al di fuori del campo c'è il cuore napoletano noi ci ha messo solo documentare filmata e lo so cioè lui era proprio napoletano è un cuore napoletano è un cuore napoletano è napoletano 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 è un argentino nato a napoli la stessa cosa di Armando Maradona è napoletano in tutto e per tutto visto ieri sono venuti anche i tifosi del Boga a Napoli vedi un po' che succede per il nostro Dio non ci scordiamo mai ecco vuoi scordare non mi fai a ti scordare passato un anno ma non sei morto non sei morto sempre vivi sempre 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 rimarrà sempre nei nostri cuori come fai a dimenticare una persona del genere indipendentemente dal calcio perché lo sapete non deve ne parliamo è l'unico umanamente quello che ha fatto questo qua ma invece si parla sempre quello che nasce a stare questa è napoletano vero napoletano veramente per questo lo mangieremo sempre ti salutiamo ti amiamo sempre ti ameremo sempre ti ameremo sempre ti ameremo sempre e sarebbe bella cosa che è stato a misforo San Paolo eh ma poi quella domenica entrerà nel tunnel dello sciogliatoio sempre con noi ti amiamo Diego un bacione